I movimenti Taranto diritto di volare con Alfredo Luigi Conti e aeroporto Magna Grecia con l'avvocato Walter Fischetti hanno colto l'occasione dell'incontro organizzato dai Verdi al palazzo della provincia di Taranto per consegnare al presidente Michele Emiliano una richiesta ufficiale di un urgente incontro risolutivo per conto della numerosissima popolazione ionica ovvero pugliese, lucana e calabrese interessata all'immediata frizione dei voli di linea passeggeri dall'aeroporto di Grottaglie. Considerata l'attuale grave e ingiustificata situazione di isolamento nei collegamenti aerei il governatore deve ora rispondere del perché la società aeroporti di Puglia per l'arlotta di Grottaglie continua a violare l'obbligo di gestire anche i voli passeggeri di linea. Non garantisce infatti pari sviluppo territoriale come sta facendo per Bari e Brindisi in un territorio attualmente isolato e abbandonato in tutti i sistemi trasportistici principali che già possiede ovvero aeroporto, ferrovia, porto e autostrada. I movimenti hanno pertanto invitato il governatore Emiliano a demettere una sua ordinanza nei confronti di aeroporti di Puglia che imponga la stessa all'immediata attivazione dei voli di linea passeggeri con le attuali compagnie presenti a Bari e Brindisi anche per l'aeroporto di Grottaglie garantendo stabilità finanziaria per il triennio 2016-2019. Ogni declassamento o mutamento di destinazione ed uso dell'arlotta, concludono Conti e Fischetti, sarebbe giuridicamente di fatto illegittimo.